Papà, basta camminare, sei mesi che siamo qui sopra a mangiare castagne e fungiche non ci faccio più, hai capito che i biondi non diventano castagno castagno fetenno voglio tornare a casa, non ce ne sono più palmetani e chi rende l'estetista che stai parlando ai miei tazzani? Non so ne dupo mai da ciù, ma senti va bene chiariamo una cosa allora qui non siamo in vacanza, qui ne stiamo salvando la vita sta capendo? Tic e tocchi, estetista, uomini e donne, grande fratello tutte queste cose non esistono più quando c'è la guerra si pensa alla sopravvivenza, si pensa a salvare la vita e tu non hai bisogno da sopravvivenire? non sparare i minchiati che ancora il ciclo non diventano, cosa faccio? non fare tutte le femminaranne che ancora sei una picciritta ok va bene va, torniamo a casa, andiamo dallo zio Filippo avete visto stare da sotto se non mi rodo male, mi era pieno di Nicolosi speriamo che ne presti la macchina e torniamo a Catania avanti frate, sei contento? avanti, ora andiamo in, muoviti e si vede qualche castagna a cogliela non ti fai queste specchie castagne Jennifer vieni mi sa che siamo arrivati occhio eh, ci può essere ancora qualche palermetano per i peri si attenta Jennifer accaditi, non fare rumore, non fare sguscio guarda, mi sa che siamo arrivati eh la porta è questa il picchino aperto si trovi perché se c'è qualche mangiamento usa ci ha spaccato molto la testa forza, questa è la porta Filippo Filippo oh ecco non c'è Filippo oh oh sono io Saro niente non c'è è un specchio signore ma se ne puoi dire a qualche rifugio papà si a qualche mannerina signore vabbè io non c'è io mi fai toccato tutte le cose ma vai papà a mio che mi conti stiamo morendo nella fame vedremo un do bagno che c'è ah buono un po' di acqua ossigenata lo spazzolino di zentifricio c'è? si e poi chi vuoi? magari uscire per lavare il tuo bagno? anche in c'è chi c'è vedremo i preservativi buoni per quando torna a Catania oh Filippo ma non c'è che specchio sbagliato papà papà ma che fai appennato? mazzi mio Jennifer tenimi tenimi fermo che mi sta venendo a dittare rubando le filippo i mesi i giappoli i mesi che devo fare papà? devi tagliare la corda da quei frigideri che fa contrappeso ma quale? quello? forza muoviti però capare intronata minchia va bene va bene un attimo ok papà sei da piano ehi a testa a testa la carina la carina oh vabbè tu c'è il palermo il palermo il palermo il palermo il palermo non hai il palermo il palermo non hai il palermo non hai il palermo che fai che fai? Filippo su sei del bagghiaccio Filippo sei tu attacca il cuore che cacchino il palermo il cuore va bene arrivo arrivo muoviti il palermo però aspettatemi bastardi cacchino forza forza aspettimi chi ora 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 non ci posso credere su ancora cacchino tu che dici si ho capito ma perché non ci vanno la casa ancora perché non ci spie comunque grazie per averci salvato ma che specchio fai? neciste pazzo papà papà aiuto ma che specchio fai? Filippo calma sono io girati alza le mani ti ricordi di girare ti ti giri va bene è stato mozzicato da qualche palermitano fatti avviare ma che specchio vuoi? se ti morde un palermitano ti consaggia Filippo Jennifer ha finito? pezzo di cretino oh su te muzzi che in palermitano diventi come iidi ti inizi a nutrire di me uso umano ora mi rubi questo razzo buono come faccio a cogliere i funci scopino sto pagliare niente niente sto pagliare niente niente sto pagliare niente niente sto pagliare niente niente e se vuoi il rumbo magari l'altro razzo bravo bravo che sto ringraziando per avervi salvato vado a stare da fuori a morire Filippo una giovane macchina per tornare a Catania eh? vicetto in caffè non vuoi? non lo so ma sicuramente se io avessi la macchina che ero ancora caccia muonita ma sperare minchiato sappiamo che l'hai la macchina mettete al secco un guterlo in due culo scopino forse scopino tu o mai oi a stare muta Jennifer a fare parare a me cazzimi ma dove è che stavo? i giovani di oggi non hanno più educazione per i grandi Maurizia mia che ci combattono tutti o no? senti non ho la macchina si rompia un mese fa e abbessiamo no? ti aiuto io perché sei meccanico tu noi eravamo a muonizzare pensa a te io qualche cosa capisco ci ho messo io ah vabbè allora questa è la mappa della zona che sei manicolosi per prendere i pezzi dobbiamo arrivare fino a Pedara vicino Caffè Mazzella esatto dai c'è una auto-officina abbandonata dopo di che io vengo da casa l'abbandono dai non vengo con voi a proposito te cacci sui chiavi libero o cane libero mi resti cane sto figlio e basta tuttora i pareti che avete a 10 anni io non ho 13 io ho 13 anni già lavoravo a muratura come aveva no come oggi ma siete buoni solo per fare ticchi e tocchi siete buoni e tu sai per che cosa sei buono? a muonni papà questo non sono molto io nuota e taglila